Giovedì 22 marzo, amici di Unica Channel, ben trovati all'edizione completa del nostro WebTG. In apertura del nostro giornale l'incidente mortale sulla tangenziale di Napoli. È successo poco dopo le 14, tra l'uscita Vomero e quella di Fuorigrotta in direzione Pozzuoli. Coinvolte due automobili, una delle quali, lo si vede dalle immagini, una Citroen rossa si è ribaltata dopo aver urtato una Ford Focus. Il conducente della Citroen è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale San Paolo. Ora è in prognosi riservata, la polizia stradale sta ricostruendo le dinamiche del sinistro. Rientriamo in studio, cambiamo argomento. È stato ucciso il killer della scuola ebraica di Tolosa in Francia. Il 23enne magrebino è stato freddato dalle teste di cuoio mentre si lanciava dalla finestra dell'edificio in cui si era serragliato sparando all'impazzata. I particolari nel servizio di Rosa Iazzetta. È finito l'assedio al killer di Tolosa, Mohamed Merah. L'uomo è morto dopo essersi buttato da una finestra della casa dove si era serragliato, come ha riferito il ministro dell'interno francese Guéin, specificando che il ragazzo è saltato dalla finestra armato, continuando a sparare, ed è stato trovato morto al suolo. Aveva detto «Voglio morire con le armi in pugno». Tre poliziotti sarebbero rimasti feriti durante l'assalto. Mohamed Merah è fortemente sospettato anche per l'omicidio dei tre parà nel 2008 a Montuban. L'autore della strage alla scuola ebraica di Tolosa era quindi già schedato e seguito da tempo dai servizi dell'antiterrorismo. Di recente si era recato al confine tra Pakistan e Afghanistan ed è lì che aveva avuto i primi contatti con l'ambiente terrorista, buttandosi al fianco dei talebani. Ritorniamo a Napoli perché nel capoluogo campano sono stati installati 414 dispositivi di videosorveglianza in tutti i quartieri della città. Città che quindi è diventata come la casa del grande fratello. Napoli sotto l'occhio di un grande fratello. 414 nuove telecamere e lettori ottici sono stati installati in 20 quartieri di Napoli nell'ambito del PON Sicurezza 2007-2013. Saranno così in tutto 700 i dispositivi operativi nella città. Il nuovo piano di videosorveglianza territoriale per Napoli, che parte di un più ampio progetto che riguarda Puglia, Calabria e Sicilia, è stato presentato in prefettura alla presenza del ministro degli interni Anna Maria Cancellieri e del vice capo della polizia Nicola Izzo. Questi strumenti, ha detto il prefetto di Napoli Andrea De Martino, sono decisivi per fronteggiare l'aumento dei reati, incluse nel piano anche le province e in particolare le aree turistiche. Parliamo ora di fonti di energia rinnovabili e di efficienza energetica nel Mediterraneo. Tutto pronto per la quinta edizione di EnergyMed. Il servizio. Alla mostra d'oltremare di Napoli, presentata dalla EnergyMed, la quinta rassegna delle fonti di energia sostenibile e rinnovabile. Circa 200 espositori hanno allestito i loro stand in sei padiglioni. La rassegna è suddivisa in tre aree tematiche, la eco building, la costruzione di edifici a sviluppo sostenibile, il riciclaggio, quindi la presentazione di materiali da riciclare e di energie che possono essere riutilizzate e infine la mobilità a impatto zero sull'ambiente, quindi la presentazione di autoveicoli e mezzi con motori elettrici. Ci sono intervenute anche le istituzioni, tra cui il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il vice sindaco Tommaso Sodano, presenti anche rappresentanti della provincia di Caserta e di Benevento. La rassegna durerà il 22, 23 e 24 marzo. Ed è sempre in coma farmacologico Alberto Musi, il consigliere comunale di Torino dell'Udc e capogruppo del partito di Pierferdinando Casini. Il consigliere, lo ricordiamo, è stato ferito davanti a casa sua da quattro colpi di una P38, esplosi da un killer mascherato con un casco. Il politico è stato per ore in sala operatoria a causa di un ematoma cerebrale. La prognosi resta riservata. Ci si interroga sul movente. Sembrano prevalere le piste privata e professionale, anche se comunque gli inquirenti non escludono altre matrici. Questione lavoro. Oggi è la giornata decisiva per le sorti dell'articolo 18 sui licenziamenti. Le proteste più clamorose per ora partono dal nord Italia. La riunione tra governo e parti sociali si terrà oggi a Palazzo Chigi, stretta sulla flessibilità in entrata, maggiore flessibilità in uscita e proiezione universale su un modello europeo per i soggetti che perdono il lavoro. È questa in sintesi la riforma, che però non piace a buona parte del mondo sindacale. Scioperi a Genova e Pisa contro questa ipotesi di provvedimento. Proprio da Genova si espande a macchia d'olio la reazione alla riforma del lavoro e in particolar modo alle modifiche previste per l'articolo 18. Gli operai hanno occupato i cantieri del Mugiano alla Spezia. Si tratta di circa 300 lavoratori e la protesta vedrebbe impegnate tutte le rappresentanze sindacali, la FIOM CGL ma anche FIM e UILM. I lavoratori della Fincantieri hanno deciso di proclamare uno sciopero unitario e di occupare lo stabilimento. Blitz a sorpresa della Guardia di Finanza al Palamaggio di Caserta per il concerto di Laura Pausini. Sono stati trovati ben 16 operai in nero intenti ad allestire il palco ed è scattata così la denuncia per la cooperativa impegnata nei lavori. Il Blitz, voluto dal comandante regionale della Guardia di Finanza Giuseppe Mango, è stato deciso in seguito al grave incidente avvenuto a Reggio Calabria e costato la vita ad un giovane operaio proprio durante la fase di allestimento dello spettacolo della cantante romagnola. Restiamo in tema spettacolo, in tema musica perché Bruce Springsteen riceve la cittadinanza onoraria di Vico e Quenze, comune in provincia di Napoli. Il boss infatti ha origini campane. Il nonno materno era nato proprio nella ridente cittadina della costiera sorrentina. Nell'84 cantava Born in the USA, da oggi potrebbe cantare Simenap lo Paesà. Bruce Springsteen infatti diviene cittadino onorario di Vico e Quenze, dove suo nonno Antonio, padre di Adelan Zerrilli, madre dell'artista, era nato e apparteneva a una famiglia che risiedeva lì da un quarantennio. L'idea di attribuire la cittadinanza onoraria all'artista americano risale all'amministrazione precedente, ma è stata subito accolta e portata avanti dall'attuale. Ecco le motivazioni. Springsteen è un riconosciuto cantore della vita della gente comune, che lavora per affrancarsi dalle proprie difficoltà, senza abusare della vita degli altri, in un mondo che poco la considera. Il boss è icona del sogno americano on the road per generazioni di cittadini del mondo intero ed ha nella nostra città tanta parte della sua discendenza. Il riconoscimento a Springsteen durante una delle prossime tappe italiane del suo nuovo tour che lo vedrà a giugno con il suo nuovo album Breaking Wall a Milano, Firenze e Trieste. Parliamo ora di cultura ed istruzione. Perché scrittori e poeti meridionali del Novecento sono stati cancellati, a quanto pare, dai programmi dei licei. E' questo uno degli effetti della riforma della scuola firmata dall'ex ministro dell'istruzione, Maria Stella Gelmini. Mentre il palcoscenico letterario nazionale saluta Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore al fianco di Fellini e degli intellettuali del Novecento, la letteratura italiana cancella dai programmi scolastici i poeti meridionali del Novecento. Quasimodo, Sciascia, Gatto, Silone e Scotellaro sono tra gli scrittori del Sud che non compaiono più nei programmi liceali. La decisione è stata presa nel silenzio generale nel 2010 da una commissione di esperti nominata dall'allora ministro Gelmini. Per il ventesimo secolo il percorso della narrativa dal neorealismo ad oggi prevede letture di autori significativi come Gadda, Fenoio, Calvino, Primo Levi e potrà essere integrato da altri autori, per esempio Pavese, Pasolini, Morante e Meneghello, che sono tutti però nordisti. Indignato Pino Aprile, autore del fortunato Terroni, che nel recente libro Giù al Sud sostiene che la decisione va letta come un netto rifiuto della cultura meridionale. Inoltre il centro di documentazione della poesia del Sud di Nusco, in Irpinia, ha avanzato una richiesta ufficiale di correzione, con un esposto all'attuale ministro dell'istruzione Francesco Profumo. In chiusura lo sport calcio. Il Napoli vola in finale di Coppa Italia, dopo la partita giocata contro il Siena al San Paolo. Decisivi sono stati l'autogol del difensore senese Vergassola e la rete del solito, manco a dirlo, Edinson Cavani. Mazzari ha messo in campo la formazione tipo con Maggio, Cavani e Lavezzi, che alla vigilia è rimasto a riposo per un leggero infortunio. Subito ingolli il Napoli con un autorete di Vergassola su un colpo di tacco di Cavani. Gli azzurri cercano di addormentare la partita ma la formazione di Sannino non si rassegna e punta sulle incursioni del centravanti l'arrondo. La pressione del Siena viene sventata proprio da un bellissimo contropiede al trentunesimo. Vertiginosa ripartenza di Cavani, Lavezzi e Amsi che il Matador finalizza con un colpo di testa nell'angolino. È il 2-0 che fa impazzire di gioia il San Paolo e porta la squadra partenopea in Coppa Italia. La finale si giocherà contro la Juventus il 20 maggio a Roma. Era questo l'ultimo servizio. Noi ci ritroviamo come sempre domani a partire dalle 9.30 con l'edizione Flash del nostro WebTG. A tutti voi grazie e della cortese attenzione. Buon proseguimento di serata.